Come vi avevo accennato iniziamo a vedere una breve panoramica di quella che è la sindrome metabolica, innanzitutto voglio precisare una cosa molto importante, qui naturalmente non è mia intenzione parlare di ogni aspetto e di ogni dettaglio della sindrome metabolica, perché questo è un corso di nutrigenomica, quindi noi approfondiamo nel dettaglio quelli che sono i rapporti tra nutrienti e genoma, quindi tra i nutrienti presenti negli alimenti e i geni, parliamo di sindrome metabolica perché poi è correlata con l'azione benefica degli acidi grassi polinsaturi omega 3, presenti negli alimenti di cui vi ho parlato sia all'inizio di questo corso sia nelle ultimissime lezioni e in questa lezione vedremo come agiscono a livello cellulare, quindi ovvio che qualcosina sulla sindrome metabolica devo dirvela. Allora, innanzitutto che cos'è la sindrome metabolica? in linee generali giusto per avere una panoramica. Allora, è caratterizzata, è una sindrome innanzitutto caratterizzata da una serie di fattori che predispongono l'individuo, quindi una serie di fattori che devono esserci contemporaneamente assieme, devono essere presenti assieme, che predispongono, se sono presenti assieme, predispongono l'individuo ad un elevato rischio cardiovascolare, quindi lo predispongono a patologie cardiovascolari, a un elevato rischio di contrarre patologie cardiovascolari e diabete, principalmente patologie cardiovascolari e diabete. Quindi, quali sono questi fattori che devono essere presenti assieme? Non è necessario che siano presenti tutti, dal primo all'ultimo, i fattori qui elencati, io vi dico i parametri per farvi un attimino comprendere appunto in quello che è un contesto in cui di sindrome metabolica vi do una breve definizione e poi se volete sapere di più allora vi rimando ad altri miei corsi specifici. Allora, innanzitutto, quali sono queste condizioni che devono essere presenti? Non tutte assieme, per adesso vi elenco le condizioni che possono essere presenti e queste sono innanzitutto l'insulino resistenza. Allora, prima di vedere come gli acidi grassi omega 3 e altri nutrienti apportano enorme beneficio alla nostra salute e ai metabolismo, facciamoci una piccola chiacchieratina. Vi ho fatto uno schemino molto riassuntivo, la nostra è una chiacchieratina perché dietro questo schemino ci sta tanta di quella fisiologia e tanta di quella biochimica da riempire trattati interi. Ecco, quindi, se volete sapere dettagli, vita, morte e miracoli, vi rimando ai miei corsi di fisiologia, ai miei corsi di biochimica di base, di biochimica sistematica, di biochimica degli alimenti e tant'altro. E quindi adesso dobbiamo capire in linee generali quando noi facciamo un pasto che cosa succede. in linee molto generali. Questo schema poi vi servirà per comprendere meglio ciò che vi dirò a seguito. Allora, noi mangiamo, quindi, fase dell'alimentazione. Mangiamo il nostro pasto. Perché ho messo qui poi fase di digiuno? Perché essenzialmente il digiuno non dovete intenderlo. Come quando dite, oggi non ho mangiato niente per 24 ore, allora ho fatto il digiuno delle 24 ore. La fase di digiuno non è soltanto quando voi digiunate per un giorno intero. Dietro questo termine è presente una ben precisa definizione. Ma siccome la nostra qui è una semplice chiacchieratina, per poi raggiungere e per farvi comprendere meglio dei concetti di enorme importanza, allora per queste cose vi rimando naturalmente in quei corsi laddove approfondisco vita, morte e miracoli sui metabolismo. Quindi, come vi dicevo, fisiologia, fisiologia sistematica, biochimica sistematica, biochimica degli alimenti e quant'altro. Allora, noi mangiamo, fase dell'alimentazione, mangiamo il nostro pasto. Che cosa succede quando mangiamo? Aumentano naturalmente gli zuccheri nel sangue. Nel sangue abbiamo un'alta concentrazione di glucosio. L'alta concentrazione di zuccheri nel sangue e del sangue è un'alta concentrazione di zuccheri nel sangue. Grazie a tutti